Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero, «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, forché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tra un busto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro, «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano, ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui. Ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse, «Talitacum», che significa, «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Un racconto famoso del Vangelo di Marco ci accompagna oggi, anzi, in realtà sono due racconti uno dentro l'altro. Due racconti di miracolo, due donne, anzi, una donna e una ragazza, che sono afflitte diversamente dalla sofferenza. Gesù incontra prima di tutto il padre di questa bambina, dodici anni, di questa ragazza, che è morta. Ma mentre va a casa di Gairo, di questo capo della sinagoga, siamo a Cafarnau, in riva al lago di Tiberiade, una donna ignota, che noi chiamiamo l'emorroissa, cioè la donna che aveva un'emoragia, che perdeva sangue, non sappiamo chi sia, gli tocca la frangia del mantello. È una fede forse magica, è quasi un miracolo che avviene senza che Gesù lo voglia, senza che Gesù se ne accorga. Gesù sente una forza che esce da lui, perché lei pensava, se anche toccherò la frangia del suo mantello, sarò guarita. Ma Gesù la vede, naturalmente la cerca, e si fa raccontare, come dice il Vangelo, tutta la verità. E Gesù risponde, figlia, la tua fede ti ha salvata. Ecco, vedete? Non è il miracolo che genera la fede, ma è la fede che fa i miracoli. Il miracolo Gesù, i miracoli non li fa mai, o quasi mai, diciamo, per dimostrare che lui è, per far credere in lui, ma è quasi sempre il contrario. Gesù chiede la fede, credi che io possa fare questo? La tua fede ti ha salvata, non basta essere guarita, bisogna che tu sia salvata. E si è salvati quando si incontra lo sguardo e il cuore di Gesù, quando si incontra Cristo, non solo il suo potere, ma quando si incontra il suo cuore, la sua identità profonda di figlio di Dio. Ma la scena continua, perché c'è una ragazza che è morta e davanti alla morte, davanti alla morte, c'è solo pianto e dolore. E quando Gesù dice non temere soltanto abbi fede, la bambina non è morta, ma dorme, lo portano tutti in giro, iniziavano a deriderlo. Perché? Perché credere nella vita eterna è oggetto di derisione, anche oggi questo è vero. Tu credi nella vita eterna, ci sarà qualcosa di là, ma non c'è niente, tanto non è tornato mai nessuno. Le cose che si dicono ancora oggi a chi crede nella vita eterna, eppure Gesù continua a dire abbi fede, la bambina non è morta, ma dorme, cioè la morte è un sonno, è un sonno da cui Gesù ti vuole risvegliare, con quelle parole che Marco ci ha conservato, proprio nel loro originale suono aramaico, talità cum, fanciulla, alzati. Ecco, la vita risorge, con Gesù la vita sempre risorge. Sono due racconti che ci parlano della fede, e dei miracoli che fa la fede. Se noi abbiamo fede possiamo continuare a sentire a qualunque età, in qualunque situazione di vita, la parola di Gesù che ci dice io ti dico alzati, risorgi, ricomincia, riparti, fai fiorire la vita. C'è sempre una vita nuova per Gesù, una vita oltre la morte, ma anche una vita adesso che deve sempre ricominciare, che deve sempre rifiorire, che può sempre essere nuova, essere giovane, anche a 90 anni, giovane nel desiderio, nell'amore, nella ricerca. Ecco, perché con Gesù la vita può essere sempre nuova. L'importante è avere fede. LA VALLE LA VALLE Grazie a tutti.